Padre Michele, quando si consumano queste tragedie così efferate, così crudeli, spesso si trascura il lato più umano. Maria Sofia frequentava il catechismo qui. Qual è il ricordo di questa bambina? Avrebbe fatto la prima comunione nell'anno in corso, significa 2017. Il ricordo di una bimbetta che insieme a tanti altri, almeno personalmente, fanno provare tanta tenerezza e quindi le cure, le attenzioni, il nostro sguardo protettivo, il nostro sguardo di chi vuole il bene di queste bimbe. So che anche la mamma di questa bimbetta spesso si fermava durante l'incontro di catechismo per ascoltare e per stare vicino alla sua bambina. Una relazione, delle relazioni familiari dunque normali, padre Michele? Sì, 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 almeno anzi dovremmo dire in maniera forse eccessiva, insomma, ecco questa relazione affettiva nei confronti della sua bimbetta e nei confronti anche dell'altra figlioletta che spesso portava con sé anche qui al catechismo e alla messa domenicale. Dopo il reato avviene spesso, come sta accadendo anche in queste ore, sui social network il linciaggio nei confronti dell'omicida intrafamiliare. Qual è invece l'atteggiamento della Chiesa e quale dovrebbe essere invece l'atteggiamento corretto da parte della collettività? Ma penso che l'atteggiamento umano di ciascuno di noi innanzitutto è il silenzio, sono situazioni così gravi, così pesanti, così complesse che non possiamo giudicare, non possiamo giudicare assolutamente. Noi proviamo tanta, tanta sofferenza, tanta pena e per queste bimbette che non ci sono più e per la mamma che si è trovata a fare un gesto che sicuramente nella normalità non avrebbe assolutamente fatto, visto che anzi accompagnava la bimba al catechismo, anzi era sempre presente, insomma la custodiva, la voleva preservare da qualsiasi difficoltà, da qualsiasi problema. Quindi penso che la cosa migliore sia il silenzio e non il giudizio. Come si farà a spiegare agli altri bambini che non vedranno più la loro amica? È molto molto difficile, ecco diremo che in questo Natale Maria Sofia sarà vicino a Gesù Bambino, questo sì.